Allora Sì E' un impianto fotovoltaico quindi di notte avrebbe poco senso poi non cambierebbe nulla nel senso Beh sì, la nuvola c'è anche di notte in termografia giorno e notte cambia poco nel senso che Allora sto guardando una nuvola e sto guardando un cielo sereno allora in questo caso il campo qua mi risulta circa 29 leggo in realtà non è la temperatura del fotovoltaico è l'insieme dell'immagine del campo più riflesso ma se lo guardassi di notte non ci sarebbe una grandissima differenza sarebbe un po' più freddo il pannello in generale ma i riflessi ci sarebbero lo stesso i riflessi ci sono dovuti al fatto che tutti gli oggetti al mondo emettono e quindi qualche riflesso c'è sempre faccio un esempio se io guardo quel allora io mi metto qua e guardo quella vetrata e mi rifletto io ok allora mi sposto si riflette il muro se sposto il muro si rifletterà il muro che c'è fuori se butto giù il muro che c'è fuori si rifletterà il muro che c'è più ma cioè non esiste modo di eliminarla questa cosa se tolgo il cielo sereno si rifletterà lo spazio esterno se metto le nuvole si rifletterà le nuvole non c'è modo perché tutto in natura emette e tutto in natura riflette più o meno certi oggetti riflettono meno e quindi ci incasinano meno la vita certi riflettono un macello e quindi siamo disperati la difficoltà sta proprio nel capire che oggetto stiamo guardando e sapere come gestirlo il riflesso non lo possiamo fare oggi cioè queste sono cose che si fanno nel corso poi di cinque giorni ma ovviamente l'infarinatore le devo dare se no dice ma come allora abbiamo due casi la mia termocamera vede l'oggetto che emette ma il mondo circostante manda della radiazione che viene riflessa in una situazione normale potrebbe essere che a me misurare non interessi allora in molte situazioni che ci sia un riflesso la cosa non mi interessa perché faccio quella che si chiama immagine analisi qualitativa volete vedere un'analisi qualitativa questa è un'analisi qualitativa un serramento che non tiene allora vedete che sul pavimento si riflette il profilo del serramento vedete che questa macchia si riflette sul pavimento il pavimento è in granito ma a me non mi interessa perché questa è la faccia di un'infiltrazione dall'angolo del serramento quindi a me sapere la temperatura qui vedete che non c'è la temperatura perché non mi interessa in questo caso c'è un po' di riflesso quindi mi sballerebbe la lettura della temperatura ok quindi se io misurassi qui magari troverei 12 e mezzo invece di 11 e 3 ma chi se ne frega ok in questa immagine è chiaro che questo non è un riflesso quella è umidità come faccio a saperlo? beh perché questo è un serramento il signore si lamenta che entra l'acqua quando piove questo è uno succo triple vetro basso emissivo pagato un bordello di soldi montato malissimo dall'installatore quindi hanno preso una Roll Royce l'hanno montata male questo signore ha 14 porte e finestre alza e sposta tutte montate male ok quando piove gli entrava l'acqua dai serramenti ok quindi in questo caso in questa immagine non mi interessa eh quindi devo semplicemente giocare con i colori della mia termocamera dopo vi farò vedere cosa vuol dire per andare a capire dove il muro è buono vedete qua è tutto buono tutto uguale qua c'è un problema il signore si lamenta che i serramenti non tengono il signore ha ragione ok se invece voglio sapere la misura della temperatura io devo sapere quanto questo oggetto è bravo ad emettere quindi quant'è una caratteristica che lui ha che si chiama emissività e devo sapere quanta radiazione emette il mondo circostante che viene riflessa perché la termocamera la deve togliere mi spiego meglio la termocamera quando legge ok legge la temperatura legge la radiazione del mio oggetto più una parte che viene riflessa da parte dell'ambiente circostante se io non gli dico quant'è questa energia la termocamera sbaglia la lettura volete vedere un esempio lampante allora prendiamo la mia termocamera ci mettiamo un puntatore nel mezzo e togliamo quest'area che non mi serve a niente ok adesso mi guardo nel vetro allora se mi misuro il riflesso della fonte 28 se misuro qua 18 ma voi credete veramente che il vetro sia più caldo? blocco l'immagine così ci possiamo giocare allora il vetro per la termocamera è un muro questo vetro qua per questo modello di macchina non si può vedere di là ok il vetro ha un'emissività di 0,85 vuol dire che il complemento a 1 è quanto lui è capace di riflettere vuol dire che lui riflette il 15% dell'energia che gli arriva ok allora lui cosa fa io emetto energia la mia capocciona qua emette ma anche il muro emette eh quindi se voi guardate qui questo è il riflesso questo è il riflesso della lavagna ok questi due sono il riflesso di questi due ok allora se io voglio misurare qui qui o qui o qui ovviamente il vetro ha la stessa temperatura nessuno di noi crederebbe che quel vetro lì è più caldo dove si riflette il termostato ma il termostato sta mandando un po' di energia che in piccolissima parte si riflette sul vetro allora se io voglio una misura accurata io devo dirgli quanta energia viene mandata da questo oggetto ok non posso andare oltre qui perché c'è una mezza giornata di lezione su sta roba ok ma se voi volete misurare veramente la temperatura dovete sapere l'emissività di questo oggetto eh e quanta radiazione viene da qui allora in questo caso questo è un bonus eh Rinaldi mi picchierebbe se ve lo dico allora se voi volete sapere volete misurare il vetro il punto più umano per misurarlo è dove si riflette il muro perché vedete che il muro è tutto uniforme ok volete sapere il modo più semplice per sapere cosa impostare mettete sulla termocamera emissività 1 leggete il muro quello è l'energia che il muro vi sta inviando quindi se io voglio misurare sul muro quindi ho guardato quanta radiazione arriva da lì l'ho impostata qui ecco il muro quel vetro sta a 17,1 poi se andate online provate un po' di altri metodi per fare questa valutazione ma la cosa più veloce per farvi vedere è questa in questo caso questa è una vera misura è ovvio che se io avessi voluto misurare dove si riflette il termostato avrei dovuto puntare il termostato o se avessi voluto misurare dove si riflette la mia capoccia avrei dovuto misurarmi la capoccia il risultato finale sarebbe stato sempre lo stesso sarebbe stato sempre lo stesso sì sempre uno certo ok allora la distanza nelle termocamere dai perdiamo due minuti vediamo quali sono i parametri allora l'emissività abbiamo detto è la capacità di un materiale di mettere energia siccome il suo complemento 1 è la capacità di rifletterla quando scriviamo l'emissività gli diciamo anche quanto riflette perché se emette 0,9 riflette 0,1 se emette 0,8 riflette 0,2 fa sempre 1 la somma quindi voi gliene dite una la termocamera lei con quello che costa il suo calcolo se lo sa fare voglio dire l'avete pagata una sottrazione la tabella dell'emissività in una prima fase può esservi utile allora chi inizia non ha fatto un corso di quelli dove si fa tutte le spiegazioni deve un po' raccapezzarsi sui materiali edili sono abbastanza buone ok sappiate che un intonaco del genere è 0,95 un vetro del genere è 0,85 lo dico subito su materiali che non conoscete nel corso certificato vi si insegna come valutare l'emissività dei singoli materiali ma anche lì c'è una mezza giornata circa di attività con gli esercizi pratici quindi non riusciamo a farlo oggi la temperatura riflessa come vi ho detto è la radiazione che l'ambiente manda ci sono due o tre tecniche di misura vi ho fatto vedere la più semplice cioè mi giro e guardo che cosa si sta riflettendo ok ci sono altre tecniche ce n'è una che utilizzo un metodo elettronico costosissimo che di solito mi porto dietro perché è talmente costoso che non lo posso lasciare a casa prendete un foglio di cucchia alluminio lo mettete un po' di stagnola questa è un'altra tecnica questo è uno specchio all'infrarosso che serve per fare l'analisi dei riflessi però questo poi andiamo un po' troppo sul andiamo no questa è una battuta che invece in un'azienda in cui questi si arrabbiavano tantissimo perché dissero con quello che ci hanno fatto pagare la termocamera non ci hanno detto neanche che ci vuole uno strumento elettronico di calibrazione mi è venuta la battuta lo strumento elettronico quando l'ho tirato fuori hanno capito che scherzavo questi dati distanza oggetto umidare relative e temperatura atmosferica sono le condizioni dell'aria tra voi e l'oggetto detto in maniera semplice se voi guardate un oggetto lontano e c'è foschia lo vedete bene o lo vedete male? lo vedete male? quello che vuol dire la termocamera siccome lei vede una radiazione e deve misurare se vede male perché c'è foschia ovviamente sbaglia allora voi dovete dirgli quanta foschia c'è dovete dirgli quanto è distante quanta aria c'è e quanta umidità c'è ok? ma la distanza non fa una grande differenza i due parametri fondamentali per voi sono i primi due l'emissività e la temperatura riflessa sappiate che se voi non dovete misurare ma vi interessa solo la faccia che c'ha l'immagine è indipendente dall'emissività perché è un'immagine di radiazione volete vedere se io metto emissività 1 0,85 vedete l'immagine aspetta è questa ok? se io adesso metto emissività 0,55 vedete che l'immagine è cambiata ma la temperatura è sbagliata se io adesso metto emissività 0,29 mi dice guarda che sta sbagliando io gli dico vedete che l'immagine non cambia perché lui legge la radiazione la radiazione è un dato di fatto la radiazione è quello che la macchina riceve e quella è un dato cioè il mondo mi ha mandato questa io non la posso modificare ok? i parametri servono alla macchina per derivare la temperatura da quello che ha visto ma io non posso dire alla macchina hai visto qualcosa di sbagliato lei dice scusa io quello ho visto e me lo fa vedere qui ok? io cosa posso fare sulla termocamera? posso manualmente giocare sui colori per vedere meglio o peggio le cose io posso giocare sui colori per vedere meglio o peggio le cose ma l'immagine che lei ha catturato non è modificabile perché è uno specchio della realtà ok? è un po' difficile questo concetto ma quando voi fate un'immagine termografica voi acquisite quello che il mondo vi manda poi lo elaborate ma quello che il mondo va mandato non lo potete cambiare quello è ok? tutto quello che fate con la termocamera sono artifici di calcolo e di colori su un qualcosa che la natura vi ha mandato il mondo vi ha mandato ok? quindi quando la gente mi dice come faccio a evitare un riflesso non lo puoi evitare se io mi sposto non sarò più nell'immagine ma ci sarà qualcos'altro nell'immagine io non posso evitare un riflesso posso semplicemente misurare dove c'è un riflesso meno caotico che è lo sfondo uniforme del muro probabilmente avessi misurato qui o qui sarebbe stato molto più complesso qua vedete una superficie uniforme riflessa e mi aiuta nell'analisi non so se sono stato chiaro però ripeto al massimo poi lo vediamo lo rivediamo dopo